Benvenuto in questo virtual tour, io sono Angelo Camilleri Addis, mister affitti Brianza e li porto in visita in un appartamento monolocale non arredato a Desio. L'appartamento si trova in un piccolo contesto di soli due appartamenti immerso nel verde. Dalle scale di accesso si arriva al piano rialzato su un balconcino che dà la possibilità di accesso direttamente all'open space suddiviso per zone con la zona giorno con la parete cucina e la zona notte. Bagno con sanitari e doccia oltre che la postazione lavatrice. Per tutti i dettagli su questo immobile visita il sito www.desio.soloaffitti.it Per la cultura dell'affitto visita il blog www.misteraffittibrianza.com Solo affitti, affittare con sicurezza.